Ciao amici, ciao amici, ciao il moroglio, no che ci vedano! Allora siamo in diretta dal Barber Day, Paolo, ufficialmente siamo felici di essere tutti qui, molto felici, aggiornamenti inizia adesso, iniziamo adesso a fare un po' di festa, perché adesso abbiamo fatto il ritrovo, come tutti gli anni, qua presso la fabbrica in Pedavena di Levico, parcheggio pieno, prati pieni, dopo c'è stata l'esibizione di Overcraft, Romagna Boys e i vari club che sono venuti a trovarmi. Adesso partiremo verso le 11.10 per la sfilata, andiamo al Parco Tre Castagni e dopo rientriamo, andiamo presso le strutture di Ves Levico, dove c'è da mangiare, concerto, da bere, pin-up, e le eddy, pin-up, castelli gonfiabili per i bambini e tutto quanto, e tutto quanto, a 3.60. Allora noi adesso lasciamo Paolo che ha da fare, devo andare a prendermi l'acqua, ciao! Ciao! E continuiamo a fare un giro per le macchine qui al Barber Day. Allora, vi facciamo vedere una panoramica. Si parte a breve per il giro. Allora, vi ricordiamo che noi siamo arrivati ieri sera, ci siamo organizzati per un ritrovo qui in Fabrica Pedavena che vedete alle mie spalle. Andiamo nell'angolo americano. Allora, partiamo subito, visto che approfittiamo che siamo qui davanti alla sua macchina. Oggi presente è Davy Bergham, presidente degli Angry Eagle. Se magari lo becchiamo, facciamo due chiacchiere con lui. Ciao! Un saluto! Com'è la situazione? La situazione, com'è la situazione? Sto monitorando la situazione, è tutto sotto controllo. Tutto sotto controllo, perfetto! Allora, qui è dove siamo entrati questa mattina per il ritrovo, il punto di riferimento del ritrovo del Barber Day 2021. Un po' di... Eccolo qua! Ne parlavo proprio prima. Fregato! Ecco, Davy. Ciao! Dico, sono partito col video, con la tua macchina è qui davanti, quindi ho fatto riferimento al Angry Eagle, presenti qui oggi al Barber Day. Sono riuscito a beccarti, quindi possiamo fare due chiacchiere. Bene! Ieri sera abbiamo fatto una serata a Stemia, in compagnia, ovviamente. Promesso! Siamo stati bravissimi, anche perché avevamo della strada per arrivare in hotel, 10 metri, e niente, ci siamo divertiti, no? Bella serata, come sempre! E oggi c'è il Barber Day, contenti di essere qui, tutti, nuovamente insieme. Sempre insieme, un gran numero di auto, caldo, peccato che non si riesce a sentirne. Ti faremo vedere le auto a mano che giriamo. Io per il momento, Davy, ti saluto, ci becchiamo dopo, facciamo un giro e niente. Andiamo avanti e poi seguiremo gli aggiornamenti. Ok, ciao! Ciao, Davy, grazie mille! Ciao, grazie! Allora, partiamo subito all'ingresso del ritrovo qui. Intanto le nostre pin-up. i nostri ragazzi, appunto! Non devi toccare la macchina, però. Scusami! Ecco, ragazzi qui sopra. Allora, oggi ci presentiamo con Omar. Ciao, piacere Omar a tutti! Che abbiamo avuto il piacere di conoscere tempo fa, ma oggi è la prima occasione a pelle, insomma. La prima di tante. Esatto, esatto. Come la stai vivendo oggi? Da Dio! Mi sto divertendo un casino. Anche tu sei arrivato ieri? Sì. Ok. Mi ha fatto serata, ci siamo rilassati. Oggi ci dedichiamo qui a quello che è il bar. Certo che sì. E niente, continuo a fare un giro alle macchine. Giù a tutti! Allora, vi facciamo vedere un po' di auto. Davide, tutto a posto? No. Ciao! Noi facciamo le prove. Com'è? Com'è? Aspetta, 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 aspetta che vado. Io posso il vento. Dove ho fatto il vento io. Ah, pensavo la resina. Va benissimo, via. Continuiamo a farvi vedere un po' di auto. Ovviamente tutte le auto del club le abbiamo messe qui vicino. Grazie a Paolo che ci ha dato la possibilità di poter far stare tutte le auto vicine. Riusci a andare in bagno? Vi presentiamo Poli. Siamo in diretta. Ma hai preso proprio? Eh sì, ma to beccato ti... Finalmente è la prima occasione che abbiamo il piacere di conoscerci. Qualche giorno fa è stato il tuo compleanno. Sì, mercoledì. Quindi auguri... Grazie. Di persona, insomma. Che approfittiamo, visto che siamo qui. Sì, sì, sì. E niente, continuiamo a fare un giro ai ragazzi a far vedere le macchine. Tutte le nostre bellissime macchine. Grazie mille. Ok, prego. Ciao. Se tratta di una storia vera, mi forse. Quindi tanti amici qui presenti oggi. Tante auto, tantissime. Come vi anticipavo, grazie a Barber Paolo, referente del club per il 39 Agile. Adige, ci ha dato la possibilità di mettere tutte le auto vicine, tantissime. All'espa davanti a voi la vicepresidente che sta facendo, sta filmando. Vuoi dire qualcosa? Salutiamo anche da Instagram, ragazzi. Un saluto. Ciao. Abbiamo Roby. Oggi non investe da... Mi sono ripreso. Da mini club. Non investe da mini club. Maury, tra poco avrò l'onore di guidare una Mustang. Ah, è vero, è vero, è vero. Esatto, esatto. Abbiamo fatto qualche prova ieri, mi piace. Dai, è bella, è bella. Bravo ragazzo, bravo ragazzi, dai, affidabile. Ringrazio l'Andrea che... No, ringraziamo la vicepresidente. Eh, anche, eh, beh, beh. Che è lei, è lei che ha investito. A Nicoletta, a Zettacco. Alle. Cosa, è in diretta? Eh, c'è, sempre diretta. Chi guarda, chi guarda, chi c'è? Chi guarda non lo so, però... Presentatevi. Salutiamo, sempre comunque tutti quelli che ci guardano e ci seguono. Continuiamo a fare vedere le auto, che forse è la cosa migliore che vedere le nostre facce. Maurizio sempre col megafono. Partenza tra dieci minuti. Partenza tra dieci minuti. Si è incantato il disco. Ecco, la vice che... Allora, giù il telefono e di qualcosa, per favore. Non mi far arrabbiare, perché la gente vuol sapere. Vediamo cosa sta filmando. Ah, è il nonno, è il nonno. Va bene, via, dai, continuiamo a fare il giro. Tantissime auto, veramente tante, tante. Di ogni genere, ovviamente, il Barberday è aperto a tutte le tipologie di auto, quindi non solo americane, ma anche europee. Ci invecchiamo in una chevelle, che ve la facciamo vedere. Bellissima. Bellissima. L'auto di Pasquale. Camaro. Piti Cruiser. Bortolan. Anche lui oggi con noi, in compagnia. Veramente, veramente tante auto. Allora, torniamo giù verso la fabbrica. Stiamo preparando che a breve si inizierà il giro e si arriverà al campo sportivo di Levico, dove inizierà la festa vera e propria. Giorgio, un salutone, Giorgio. Buongiorno. Ovviamente moto, tante. Pin-up presente ovunque. Vi ricordo che ci sarà la sfilata delle pin-up, ovviamente qui al Barberday. E ovviamente concludiamo il filmato in fabbrica, facendovi vedere appunto dove siamo. Allora ragazzi, noi vi diamo appuntamento circa verso le 1.30, 2 barra 2 per gli altri aggiornamenti. Ci prepariamo per il giro, restate sempre sintonizzati sul canale del club e se avete domande chiedete pure. Ciao ragazzi, ci vediamo più tardi.